Come abbiamo trovato la situazione confortante? Non critiche ma situazioni organizzative. Il Consiglio Comunale nel 2017 nel bilancio ha voluto delle risorse per dei controlli eccezionali sulla qualità e soprattutto sul rispetto del capitolato d'appalto per le ditte a giudicatari della riflessione scolastica sul territorio napoletano. È stato fatto un bando dall'amministrazione e oggi vediamo i risultati. 100 visite nei centri cottura, tutte visite a sorpresa, 400 visite sempre a sorpresa nelle scuole. Come commissione scuola ho chiesto un report dettagliato che nelle prossime ore arriverà appunto in commissione per capire quali sono state le difformità, quante e dove. La pasta a sugo e i primi piatti tendenzialmente sono quelli più graditi dall'utente ma anche i secondi piatti come la mozzarella, prodotti a base di carne, soprattutto se si prevede nell'elaborazione dell'appetanza anche la panatura. Noi educhiamo a superare anche i limiti dati spesso dalle scelte delle famiglie che sempre più spesso sono prone ai desideri e al godimento da marketing richiesto dai loro figli e sempre di meno invece si preoccupano di equilibrio alimentare, di nutrienti, di quel che fa bene e fa crescere sani. Noi non possiamo non tener conto di tutti gli aspetti, da un lato la gradevolezza e questa è la ragione per cui abbiamo intrapreso la battaglia per lo scodellamento e naturalmente ci teniamo a mantenere nelle diete nei nostri ragazzi e ragazze cose che a loro piacciono, piacciono istintivamente agli adolescenti o ai bambini. Dall'altra però lavoriamo sulle quantità, sulla qualità e soprattutto dobbiamo lavorare alla diffusione di una cultura per esempio della verdura, del cibo sano, del superamento degli eccessi. Quindi tenere insieme questi due aspetti, negoziare tra questi due aspetti tenendo presente che la riflessione scolastica ha anche e soprattutto uno scopo educativo. La ditta oggi ci presenta anche una serie di correttivi e di consigli che hanno dato alle ditte per migliorare la qualità del servizio complessivo.